Buonasera, vediamo quali sono i titoli dell'edizione di oggi. Peschereccio a picco a largo di Riccione, momenti di paura per due pescatori che ora sono salvi, zona monitorata per scongiurare l'inquinamento. Nel 2013 il debito del Comune di Rimini è stato ridotto di 30 milioni di euro, il risparmio più significativo è riconducibile alla riduzione degli incarichi esterni e dei dirigenti, 38 milioni impegnati in opere pubbliche. Alla Camera si vota la fiducia al governo Renzi, le voci dei parlamentari riminesi, secondo la Sarti del 5 Stelle un governicchio da baraccone. Calcio Francesco Buglio, nuovo allenatore dei Biancorossi, presentato ai tifosi dopo l'esonero di Marco Osio, Parola d'ordine, avere fame. Ben ritrovati in studio, dunque momenti di paura ad 8 miglia a largo di Riccione, dove nelle prime ore di questa mattina è affondato il peschereccio Massimo T di 14 metri. A dare l'allarme alla Capitaneria e i due pescatori a bordo che all'arrivo della motovedetta avevano già abbandonato l'imbarcazione, ormai a picco, per salire su un altro peschereccio che si trovava in zona. Pare che la causa siano state reti da pesca che si sono incagliate, facendo perdere stabilità all'imbarcazione. Discrete le condizioni dei due uomini a bordo, affidati comunque alle cure del 118. La zona dell'affondamento sarà monitorata per prevenire qualsiasi forma di inquinamento, a perlustrare l'area anche un mezzo aereo decollato da Pescara. Meno spese, più servizi. I risparmi più significativi sono riconducibili alla riduzione degli incarichi esterni e dei dirigenti. Il debito del Comune di Rimini è stato ridotto di 30 milioni. È stato presentato oggi il rendiconto di gestione del 2013 più del 40% della spesa corrente dedicata a welfare, pubblica istruzione e sicurezza. Al suo insediamento nel luglio 2011, la Giunta Agnassi si è trovata a dover gestire un debito di 141 milioni di euro. Ha chiuso il 2013 a 111 milioni. La spesa per i dirigenti dal 2010 ad oggi è calata del 45%, passati da 30 a 20, con un risparmio di quasi 2 milioni. La spesa per gli incarichi è passata da 1,7 milioni nel 2010 a 800 mila euro nel 2013. Per compensare al taglio dei trasferimenti statali, 2,9 milioni nel 2013, in tre anni 21 milioni e 440 mila euro, il Comune ha utilizzato circa 582 mila euro dei 2 milioni e 252 mila totali derivati dal recupero dell'evasione fiscale. Nel capitolo tagli occulti dello Stato, ci sono anche 1 milione e 200 mila euro per i rimborsi delle spese di giustizia, la copertura del mancato gettito a seguito della cancellazione del limu sugli immobili invenduti e il mancato gettito derivante dalle multe. Con l'introduzione della formula di pagamento entro i cinque giorni per avere uno sconto del 30%, il Comune è passato da 7 milioni e mezzo a circa 7, perdendo 900 mila euro di introiti. L'aliquota IRPEF confermata al minimo con l'esenzione per i redditi inferiori a 15 mila euro che ha interessato oltre 29 mila cittadini riminesi. La tassa di soggiorno è stata una scommessa vinta, 6,6 milioni con una bassissima percentuale di insoluti. Sono stati investiti 11 milioni e 300 mila euro a sostegno del turismo, di cui quasi 8 milioni per interventi di riqualificazione. Nel 2013 sono stati impegnati 38 milioni in opere pubbliche, erano stati 17 milioni nel 2012. Nell'impegnato del 2013 abbiamo 38 milioni di investimenti, quindi la curva degli investimenti ricomincia a salire. Abbiamo oggi un patrimonio di edifici pubblici o comunque di infrastrutture che sicuramente va migliorato. Noi fortunatamente, oltre ad aver aumentato la spesa per investimenti, siamo anche un'amministrazione che non ha praticamente debiti con le imprese. Renzi nel discorso di apertura del sediamento lo ha detto, oggi vogliamo la PA con debiti zero verso le imprese. I carabinieri hanno trovato refurtiva per un valore di circa 15 mila euro in un appartamento di Misano, abitato da un 27enne e da un trentenne entrambi albanesi. I due sono accusati di diversi furti nella zona sud della provincia. Dopo un mese di indagini a seguito di un aumento dei furti, i carabinieri hanno ottenuto l'ordine di perquisizione e hanno trovato monili in oro, orologi e bigiotteria. Parte della rifurtiva è già stata restituita ai proprietari, i due sono stati fermati, sono in stato di fermo per ricettazione. Ci ricolleghiamo all'ultima battuta dell'assessore Brasini che abbiamo sentito durante la conferenza stampa di oggi del rendiconto di gestione 2013 che ha appunto ricordato il discorso di insediamento di Renzi. Alla Camera dei Deputati, dopo otto ore di interventi, si sta votando la fiducia al governo del Premier Renzi e tra i parlamentari intervenuti nel dibattito in aula anche la riminese del Movimento 5 Stelle, Giulia Sarti. C'era anche la riminese Giulia Sarti del Movimento 5 Stelle tra i 55 parlamentari iscritti a parlare prima del voto sulla fiducia al Premier Renzi. Un intervento accalorato in cui l'Onorevole ha definito il governo un governicchio da baraccone e nel quale è tornata sui punti di forza dei grillini. L'unica soluzione era tornare alle elezioni e non ci venga a parlare di responsabilità. Lezioni dal sindaco più assenteista d'Italia non ne prendiamo. Ieri al Senato lei non ha parlato di lotta alle mafie, alla corruzione, al riciclaggio, all'evasione fiscale. Presidente, le proposte contro la criminalità organizzata non si liquidano con un tweet. Eppure per un attimo abbiamo sperato. Spiega oggi a quest'aula perché non avete confermato Gratteri. La scusa che un magistrato non può diventare guardasigilli è una balla. Lei è qui da poco e sappiamo che resterà per poco, ma le presentiamo il Parlamento italiano. È pieno zeppo di magistrati. Quelli che oggi siedono lì, fino a ieri, stavano qui in questi banchi. Abbiamo già detto cosa sono stati capaci di votare. Uno degli ultimi decreti dei vostri predecessori ha perfino liberato mafiosi regalandogli uno sconto di pena. In aula anche gli altri parlamentari riminesi e per pizzolante del nuovo centro-destra quello che sta passando ora è l'ultimo treno che l'Italia ha per un vero rinnovamento prima di morire di asfissia. I temi dell'occupazione e dell'impresa dovranno essere al primo posto per la parlamentare del PD Petitti. Si dovrà agire, dice ancora, anche sul patto di stabilità che soffoca tanti comuni virtuosi. L'altro parlamentare del PD, Carlotti, ha apprezzato il pragmatismo di Renzi. L'impressione di una persona molto determinata, tra le cose lavora moltissimo, che è iniziare a parlare di un taglio del cuneo fiscale a due cifre, iniziare a parlare di restituire completamente quelli che sono i crediti che vantano le imprese da parte del sistema della pubblica amministrazione, in primis lo Stato, è una cosa importante. Iniziare a mettere mano anche a tutto il tema della giustizia. Noi abbiamo pendenti qualcosa come 8 milioni di cause. Devo dire che c'è molta speranza, c'è la consapevolezza che veramente stavolta non abbiamo più una strada di ritorno. E io mi auguro, e farò di tutto nel mio piccolo, perché questo tentativo va da buon filo. Venga scongiurata la chiusura a Rimini della sezione della Polizia Postale. A presentare un atto formale alle istituzioni locali contro l'ipotesi ventilata nel nuovo piano illustrato ai sindacati dal vice capo della Polizia Marangoni è il SIAP, il sindacato dei poliziotti. La postale è l'unico organo che contrasta i reati in rete, come pedofilia, cyberbullismo, frodi informatiche, e a Rimini è attiva dal 2007. È importante, ha detto del sindacato, una presenza di operatori sul territorio per evitare che diventi sempre più appetibile a queste forme di reati. Un'unica sede a Bologna comporterebbe un forte abbassamento della sicurezza. Fondamentale la presenza anche per l'educazione all'uso del web tra i più giovani. La Polizia Postale di Rimini in questi ultimi anni ha infatti incontrato 5 mila studenti. Da qui la richiesta alle istituzioni locali perché si attivino presso gli organi governativi e parlamentari. A stretto giro arriva una nota del parlamentare del PD Arlotti che interrogerà il ministro Alfano per avere chiarimenti sia sulla possibile chiusura della sezione postale che di quella nautica. Per Arlotti si tratta di un piano disarticolato il cui unico esito è la penalizzazione della presenza sul territorio. Nessuna razionalizzazione, aggiunge, è prevista per la ventina di dipartimenti esistenti a livello centrale. Cambiamo pagina. Sono cominciati questa mattina i lavori per la realizzazione del passaggio ciclopedonale a fianco del ponte di via Coletti a Rimini in attesa della demolizione e ricostruzione di quello carrabile. Un'opera complessa ma che sarà ultimata nel giro di pochi giorni. Si parte dalla sponda nord dove i componenti in carpenteria metallica sono assemblati e spinti con un mezzo meccanico verso l'altra riva. Una luce complessiva di 104 metri che riferiscono i tecnici della ditta Jenson Bridge in Italia di Brescia non è uguale in Italia con la complessità di dover lavorare negli spazi ristretti di un contesto urbano. Al termine della ricostruzione del ponte di via Coletti la stessa ditta si occuperà dello smontaggio della struttura. Impegnata anche la ditta Lamordente di Rimini che sta predisponendo l'alveo per l'intervento e che si occuperà a lavori finiti del ripristino dell'alveo e degli argini. Il nuovo ponte ciclopedonale consentirà il doppio flusso di circolazione e sarà dotato di illuminazione. Avrà anche la funzione di traslare le reti dei sottoservizi che ovviamente non possono essere interrotte durante tutta la durata dei lavori per il ponte Carrabile. Per accelerare i tempi il comune ha emesso un'apposita ordinanza di deroga a regolamento sull'inquinamento acustico. Nel periodo interessato tutti i giorni, inclusi i festivi, i lavori potranno essere eseguiti dalle 6 alle 12 e 30 e dalle 13 e 30 alle 18 e 30. L'ordinanza è valida da oggi al 5 marzo. Si conta di consegnare intorno al 10 marzo le aree all'impresa che dovrà demolire e ricostruire il ponte Carrabile. Secondo una ricerca pubblicata nei giorni scorsi sui quotidiani nazionali, le agenzie private di ricerca lavoro sarebbero molto più efficaci dei centri per l'impiego pubblici. Non è questo il caso di Rimini, dove i numeri sono in netta controtendenza, anche se a causa della crisi negli ultimi anni sono fortemente diminuiti gli avviamenti al lavoro. In sei anni si è quasi dimezzato il numero di persone che hanno trovato lavoro grazie al centro per l'impiego della provincia. Erano 6.172 nel 2006, sono diventati 3.304 nel 2012. Se i numeri del collocamento sono chiaro specchio della crisi, è vero anche che il centro per l'impiego riminese è in netta controtendenza rispetto agli omologhi sul territorio nazionale. Secondo una ricerca pubblicata qualche giorno fa sui quotidiani nazionali, infatti le agenzie private sarebbero molto più efficaci. Collocano circa 47 lavoratori per ogni operatore contro i 4 dei centri per l'impiego pubblici. A Rimini la situazione è ben diversa. Gli operatori del CPI sono 46, 38 a tempo indeterminato e 8 a tempo determinato. Quindi, con una semplice divisione, risulta che ogni dipendente ha inciso sul collocamento di 72 lavoratori. Un dato, inoltre, che non tiene conto delle persone che hanno trovato un impiego, consultando le offerte online e le baccheche del centro. Le risorse in questo settore sono poche e pochi dipendenti. Negli altri paesi europei sono quattro volte di più, sbotta l'assessore alle politiche del lavoro soldati. I nostri dipendenti, tiene a precisare, non si occupano solo come le agenzie e di intrecciare domande d'offerta, ma anche di inconvenze burocratiche, come le DID, le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro e le indennità di disoccupazione. Attività che tolgono tempo, conferma la Soldati, tanto che si è deciso di avviare laboratori per rendere più autonome le persone nella ricerca di lavoro. Le agenzie private, conclude, considerano più volte gli stessi lavoratori avviati, anche per periodi molto brevi e ripetuti nell'anno. Noi parliamo di persone fisiche. Siamo alle notizie dei 100 secondi. 120 persone hanno assistito ieri sera alla Sala Marvelli di Via Dario Campana alla proiezione di Romagna Nostra. Le mafie sbarcano in Riviera, documentario del gap Piola Torre. Il PM Daniele Paci, oggi in carica a Palermo, ha parlato del rischio di infiltrazioni nel riminese, da parte in particolare dell'Andrangheta calabrese. Questa sera alle 20.30, nuova proiezione del documentario alla sede della CGL di Rimini. Era uscito di casa nel pieno della notte, l'86enne soccorso intorno all'una nuova feltria dai carabinieri. Providenziale l'intervento di una battuglia che l'ha trovato in pigiama sul ciglio della strada, l'anziano in stato confusionale ha raccontato di vivere da solo, di essere uscito ed essersi perso, sul posto anche il 118 che lo ha portato in ospedale per le cure del caso. Un pensionato ieri sera ha visto una cassaforte in un campo di via panoramica a San Clemente. Ha chiamato subito i carabinieri che all'interno hanno trovato sette fucili da caccia rubati il 28 gennaio in un'abitazione di Saludiccio. Le armi sono state riconsegnate al proprietario. Oggi il Vescovo di Rimini ha visitato la comunità di San Patrignano e ha pranzato con i 1300 ragazzi ospiti. San Patrignano è una sorta di fabbrica della speranza, ha detto Monsignor Lambiasi. Qui i giovani riescono a riprendersi, a ritrovare il gusto della vita, a sperare, ad accompagnarlo il parroco di ospedaletto Don Fiorenzo Baldacci. Sono iniziati i lavori alla Rocca di Saludiccio. Il progetto è stato realizzato dal servizio tecnico di Bacino dell'Emilia Romagna e prevede il consolidamento della rupe per un costo di circa 70 mila euro. Sarà messa in sicurezza e ripristinata anche tutta l'area che delimita il centro storico. La Polizia Municipale di Vallata ha presentato un suo bilancio dell'attività. Vediamo il servizio. 5.916 veicoli controllati contro i 5.593 del 2012, cui vanno aggiunti 150 motorini. In aumento anche le pattuglie, 1.993 più 13% e i posti di controllo fissi, 1.163, 301 quelli con l'autovelox, più che raddoppiati, 356 controlli con etilometro e narcotest. Di pari passo aumentano le contravvenzioni, 6.982 più 30%, la grande maggioranza 5.400 per divieti di sosta, quasi raddoppiati, un migliaio le violazioni delle zone a traffico limitato, 414 gli eccessi di velocità accertati con autovelox, 123 sinistri registrati, 2 in più, 17 i veicoli rubati recuperati. In crescita anche i sopralluoghi, oltre 13.000 gli accertamenti anagrafici, più 31%, 2.500 quelli effettuati su richiesta, di cui 1.023 a seguito di chiamate dei cittadini. I mezzi della polizia hanno percorso 133.000 chilometri, 6.000 in più. Aumentate anche le ore di educazione stradale, con 916 all'unico involti e per la prima volta anche una scuola materna. 146 presidi ai mercati contro abusivismo commerciale, parcheggiatori abusivi, stabili controlli sul commercio, in aumento quelli su aree pubbliche, in calo quelli in campo edilizio. Sabato sera il Teatro Moderno di Savignano ha ospitato lo spettacolo di Lucia Vasini e Antonio Cornacchione dal titolo L'ho fatto per il mio paese. Cornacchione è stato anche ospite di una chiacchierata con Rosi Pironi negli studi di Radio Icaro Rubicone. Lo slogan è quello, l'ho fatto per il mio paese e qualcun altro, diciamo così, è una frase che ricorre molto, come saprai, ai politici. Tutti lo fanno per il nostro paese, però c'è sempre qualche cosa che alla fine, ma come? Non lo facevi per il mio paese? E poi si scopre e anche nella commedia poi si scopre che c'è un doppio fondo, insomma un retroscena, un doppio significato. L'ho fatto per il mio paese, come spiegare? Non bisogna mai fidarsi quello che dice, l'ho fatto per il tuo paese, bisogna sempre un po' sicuro. Come ad esempio io sono diventato molto diffidente quando adesso uno mi dice stai sereno e io comincio a preoccuparmi, come ha detto Matteo Renzi al suo amico Letta, stai sereno. E adesso uno dice stai sereno. Come possono essere d'aiuto teatro, musica e i media oggi per i giovani? Soprattutto per i giovani, e per i giovani sono molti attenti appunto al linguaggio modello, del web, vanno su YouTube, diciamo che però il linguaggio, io direi ai giovani, diffidate comunque da qualunque tipo di messaggio, è difficile mediare, trovare una mediazione, siate critici su tutto, perché non tutto quello che vi arriva poi potrebbe essere, dovete unire, insomma è un problema. Il surplus di informazione può essere un problema, capisco, quando ce n'è tante uno può andare in confusione, però sappiate che il districarsi da tutte queste informazioni, magari anche i contrastati che arrivano, è il difficile in questo momento. Anch'io sarò in difficoltà, bisogna districarsi, capire il senso critico, queste cose qui, la la la, papapà. E adesso siamo al calcio, parola d'ordine, avere fame. Questa la ricetta di Francesco Buglio, nuovo allenatore del Rimini dopo l'esonero di Marco Osio. Non è tempo di poesie, ci vuole concretezza, ha detto il nuovo condottiero dei Biancorossi, che questa mattina è stato presentato agli organi di informazione e ai tifosi. Contratto fino al termine della stagione, la conferma me la devo guadagnare, ha detto in merito Buglio. La conferenza stampa sarà trasmessa in integrale sui Carosport, canale 211, questa sera alle 21. Vediamo. Mister, parola d'ordine, avere fame. Tantissima fame. Determinati, grintosi, cattivi, affamati. Affamati fino all'ultimo secondo, finché non ha fischiato l'abitro. Chi non ce la fa, alza la mano e facciamo entrare i tre giocatori dalla panchina. Ha detto che non guarderà in faccia nessuno. No, voglio vedere i giocatori che lottano, che corrono, possono anche sbagliare il passaggio, ma voglio vedere quell'arma lì in campo, da parte da chi chiaramente viene convocato, da chi veramente crede in questo obiettivo. Chi non crede in questo obiettivo rimane fuori. Mancano nove partite alla fine del campionato. Rimini ce la farà, secondo lei? Io sono ottimista per natura, sono un positivo. Guardo sempre avanti, io non guardo mai indietro. Quindi è una cosa bellissima, un obiettivo importante per tutti. Però dobbiamo tenerlo tutti insieme, perché io da solo non ce la faccio. Sarei un presuntuoso, sarei megalomera a dire ci penso io, faccio tutto io. Non è così, ho bisogno di tutti. Soprattutto dai miei collaboratori, ma soprattutto anche dai tifosi. Io è quello che chiedo un aiuto enorme, anche se sono arrivato adesso. So che loro sono arrabbiati, sono dispiaciuti. Li capisco, li capisco, perché in questo momento non stanno ottenendo le soddisfazioni che loro meritano. Però gli dico di starci vicino. Se hanno bisogno di parlare con me, che vengono. Io sono aperto, se mi vogliono trasmettere la loro rabbia, io la prendo e gliela trasmetto anche ai giocatori. Tutto quello che loro sentono, io sono a disposizione. E intanto ieri sera Marco Osio ha salutato nel corso della nostra trasmissione Calcio.Basket i tifosi del Rimini. Sentiamo un brano del suo intervento telefonico. Sono stato molto bene. Penso di aver fatto anche qualcosina di carino, diciamo, al di là dell'ultimo periodo, all'inizio stagione. Di aver dato anche un bel gioco alla squadra finché è stato possibile. Abbiamo divertito anche il pubblico, abbiamo fatto delle partite molto importanti, molto belle. Mi dispiace, naturalmente, non poter essere arrivato alla fine. Voleva dire raggiungere quell'obiettivo lì. Io penso che Rimini abbia tutte le carte in regola pur soffrendo, perché tanto si sapeva che era un campionato così impegnativo e così difficile, raggiungere l'obiettivo. I tifosi, cosa devo dire, sono stati sempre, non dico dalla mia parte, dalla nostra parte. Quindi è un ringraziamento speciale. Mi spiace anche per loro non poterli accompagnare alla fine di questo campionato. Quindi è un grazie veramente di cuore a tutti quanti. Questa sera su Icaro TV, alle 21.15, nuovo appuntamento con la campanella, il gioco delle scuole in tv. Di fronte a due scuole riminesi, l'ITES Valturio e il Liceo della Comunicazione delle Scienze Umane, Maestre Pie, conducono, come sempre, Otello Melucci e Alessandro Valentini. La campanella è in replica su newsremini.tv, quindi canale 614, il mercoledì alle 21 e su Icaro TV, canale 91, il sabato alle 14.30. Era l'ultima notizia per noi, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie dell'attenzione e buona serata. Grazie a tutti.